Vicky Varga lascia i suoi tantissimi follower senza fiato con la sua incantevole bellezza il vestito che indossa è trasparente, web in delirio Vicky Varga torna ad incantare il web con la sua incredibile bellezza poco fa ha postato sul suo profilo Instagram un set di foto che la ritraggono più bella e dolce che mai, i fan la stanno riempiendo di liché e complimenti negli scatti la splendida modella ungherese si trova in Puglia ai suoi seguaci fa sapere che ama questo bellissimo posto Lady Pellè indossa un lungo abito bianco, sembra un angelo in alcuni punti il vestito è trasparente, il piccante dettaglio fa impazzire i suoi tantissimi fan meravigliosa come sempre Vicky Varga si fa scattare delle foto accanto a colorati fiori mentre cammina si gira ed è bellissima con il suo corpo da favola e la sua bellezza sta mandando il web in tilt è stupenda il look di Vicky Varga sta piacendo moltissimo ai suoi fan questi non fanno che ripeterle quanto sia stupenda c'è chi l'ha definita un angelo con la sua incredibile bellezza e le sue curve da sogno Lady Pellè infiamma continuamente il web sul suo profilo Instagram infatti posta spesso scatti e video sensuali e provocanti che esaltano il suo corpo mozzafiato inutile dire che ogni volta fa totalmente perdere la testa ai suoi seguaci nell'ultimo post si mostra con un vestito bianco lungo, sembra un angelo il vestito in alcune parti è trasparente e fa girare la testa ai suoi tantissimi follower più bella e sensuale che mai Vicky Varga sta conquistando come sempre tutti il post sta facendo il boom di lichè e complimenti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti